Ha colpito tutti perché è non solo un grande scrittore ma è diventato una persona di casa per tutti gli italiani. È un uomo che ha fatto innamorare alla lettura, che ha fatto sognare con la televisione, con i suoi personaggi. E poi perché è uno scrittore che ci ricorda sempre che la libertà, beh, dobbiamo sempre conquistarla. Non è data mai una volta per sempre e quindi è un personaggio che davvero ricordiamo con grande affetto. E anche l'Aula si è espressa così con un applauso per uno scrittore italiano che tra l'altro è conosciuto nel mondo.